Oggi proprio una Fiorentina col cocktail e la camicia di lino in riva al mare, oggi veramente, perché oggi abbiamo proprio passeggiato sulla Samp, sempre più in Serie B, godo per la Samp in Serie B, godo per la Samp in Serie B, godo per la Samp in Serie B, ma non per i giocatori, ma proprio per la squadra, e nemmeno per Stankovic, mi sta simpatico, ma proprio per la squadra che godo, l'anno scorso vennero a festeggiare al loro stadio la retrocessione della Samp Doria, del Genoa, scusate, con le tombe, eccetera, eccetera, godo che quest'anno vada in Serie B, che ci vadano malissimo, perdendo 5-0 contro di noi, io non festeggerei nemmeno la vittoria della Fiorentina oggi, godo per la Samp in Serie B, sono una cosa tremenda, mi dispiace per i calciatori che ci hanno messo tutti in campo, forse anche punizione un po' severa, essere sinceri, mi dispiace anche per Stankovic, che è una grande persona, un grande uomo, e sta tenendo compattata una squadra, come ho detto, e non percepisce stipendi all'inizio, ma godo per i tifosi della Samp, e come godo, guarda, mi stanno veramente sulle palle, mi stanno sulle palle questi, comunque, prima di iniziare il video, ragazzi, like, commento e condivisione, box della descrizione qui sotto, link di Space Viola, se volete entrare nello Space, dopo aver guardato questo video, per discutere in live con altri tifosi della Fiorentina, l'andare di questa passeggiata domenicale, fatelo pure, siate liberi e seguite anche Space Viola, mi raccomando, oggi grandissima Fiorentina, Fiorentina in ciabatti, in crocs, oggi abbiamo giocato proprio partendo, appunto dalla formazione che vede subito un Cerofolini in porto, un esordio, no? Vede un Danca a ritornare in campo, un Castrovilli, un sottilo a cui viene data continuità, è uno Jovic che oggi non segna, ma confeziona tre assist addirittura, tre assist, arriva al dodicesimo assist stagionale di Biraghi, arriva al gol di Dodò, arriva al gol di Duncan, arriva al gol di Terzi, c'è oggi veramente un pomeriggio per la Fiorentina da pancia piena, per la Samp è da magra, insomma, da magra, veramente, però a parte questo, a parte il mio rento contro la Samp, che ce l'ho qui, ce l'ho proprio io da quella 4-1 dell'anno scorso sul finale della prima volta di Ferrari, anche lui con la Ramonese retroceda bene, godo, godo, godo almeno, io non c'ho l'odio per la Juventus, no, ce l'ho anche naturalmente per loro, ma per queste squadre qua l'anno scorso si misero in mezzo tra noi e l'Europa League, non ci fecero andare, fu anche colpa nostra, ma insomma ce l'ho qui dall'anno scorso, ce l'ho veramente qui dall'anno scorso, ma a parte quello, insomma, oggi veramente una Fiorentina che nel primo tempo, se non arrivava quella bomba di Castro, bomba, insomma, quel piazzato di Castro da fuori, mi sarei un attimo preoccupato, è arrivato proprio nel momento preciso sul finale, su assist di Biraghi, su un grandissimo stop e tiro di Castro che trova l'imbucata e poi nel secondo tempo, dal sessantesimo in poi, è stato totalmente unplanned la Fiorentina, si è proprio squagliata la Sampdoria, la Fiorentina lì ha potuto proprio spiegare calcio, bene, perché abbiamo fatto comunque gol su calcio da fermo, praticamente il primo, abbiamo fatto gol su ripartenza, abbiamo fatto gol su azione costruita, quindi oggi abbiamo dato anche ampio respiro al nostro comparto offensivo che nelle ultime partite stava andando effettivamente un po' in difficoltà vista la penuria di gol, non naturalmente contro il Mozart, non avevamo fatti due nemmeno contro l'Eck, però in generale è bene ritrovare gol, bene farlo anche con giocatori nuovi, con tutti i uomini diversi, è bene mettere in fiducia giocatori che spesso non giocano come quelli che ho menzionato all'inizio. Quindi adesso bene, si è messa abbastanza in maniera decente anche la classifica, aspettando il Bologna contro la Juventus, stasera la Fiorentina potrebbe essere ottava a 10 punti dal settimo posto, ma bene così, ragazzi, comunque l'ottavo posto in campionato deve essere il nostro obiettivo stagionale, accompagnato naturalmente, deve essere dare precedenza naturalmente prima alle coppie, quindi precedenza all'andata e ritorno contro il Basilea e precedenza alla finale di Coppa Italia contro l'Inter, ma un occhio sempre sempre al campionato perché conviene arrivare ottavi, visto anche quello che si possifera potrebbe essere un'esclusione della Juventus dalle competizioni europee, quindi bene bene arrivare ottavi, rimaniamo in quella zona lì, non facciamoci fregare dagli altri, anche perché però dal tredicesimo all'ottavo posto la classifica è compatta e si parla appunto di tre punti tra la Fiorentina ottava e 45 della Fiorentina ottava e 42 del Torino tredicesimo. Toccherà la Salernitana dell'infrasettimanale, una Fiorentina che appunto a maggior ragione non si ferma mai, contro la Salernitana probabilmente giocheranno i titolari in modo poi da far rifiatare contro il Napoli, presumo sempre in campania appunto domenica prossima, sperando che arrivi il Napoli appunto magari già scudettato, il Napoli oggi ha dovuto rinviare la festa dello scudetto, ma a parte quello appunto bene così oggi la Fiorentina, migliore in campo oggi mi verrebbe da dire quasi Jovic per l'impegno che ci ha messo, però a parte quello devo dire, migliore in campo oggi in generale la squadra, mi è piaciuto Amrabat soprattutto nel secondo tempo, non nel primo dove l'ho visto un po' troppo pasticcione, ma nel secondo tempo si è visto che un giocatore del genere contro queste squadre fa completamente la differenza. Bene Biraghi, non mi ha entusiasmato troppo sottile, devo dire bene Castro nel secondo tempo, bene Jovic anche lui nel secondo tempo, una squadra in generale che nel secondo tempo proprio ha fatto l'upgrade, però non c'è da fare tante, insomma non c'è da essere felici dopo una vittoria del genere, però commisuriamo la nostra felicità anche all'avversario, ora a parte gli scherzi, io sono diciamo contento di vincere contro la Sampdoria perché l'anno scorso come ho già detto ci impedirono di andare in Europa League anche per demerito nostro, però a parte quello onore ai giocatori della Sampdoria e non era Stankovic, ma i tifosi l'anno scorso veramente furono una cosa, io poi ho un rapporto con la Sampdoria molto conflittuale, questo proprio per quanto riguarda me, me stesso, ma ma in generale anche la tifosiera della Fiorentina. Quindi vai, a parte questo, a parte gli scherzi, bene così, anche gli spunti datici nel secondo tempo ce ne sono molto di più da considerare rispetto alla partita quella contro la Cremonese, il fatto di giocare ora ogni tanti giorni comporta anche un'alternanza tra la formazione titolare e quelle che possono essere appunto anche le seconde linee, quindi giusto sperimentare. Oggi un po' ci ero rimasto male nel primo tempo, ma poi nel secondo siamo appunto saliti di intensità, e bene così. Ragazzi, io vi rimando, poi ci rivediamo alla probabilità, non so se farò il post partita contro la Salernitana per impegni, ma comunque ci vediamo alla post partita che farò magari più tardi contro la squadra di Paolo Sosa, dall'altro che oggi è una modità fermata in Napoli e mi raccomando, sempre, sempre forza di ora. Ciao ragazzi!